intro no 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 metto tutto in posto vai vai ci siamo tu che stai montando questo video mi raccomando ciao io sono el gasi e questo è il canale di el gasi qui come oggi c'è chris a registrare questo video bella chris bella gasi oggi ci guardiamo un po di video fighi ispirazione per i creativi un po di progetti fighi sono tre progettini fighi che vedremo oggi infatti quando mi hai fatto vedere ho detto dobbiamo fare subito un video dobbiamo farci qualcosa ed eccoci qua tra l'altro con chris faremo faremo più video insieme piuttosto che io da solo perché è triste perché è triste il gasi poverino da qua da solo nel songolino a piangere sì sì molto bene allora ti faccio vedere ti faccio vedere il primo una roba un po più sul tuo gusto penso di motion è il mio gusto il tuo gusto perché perché dici il mio gusto non lo so mi ricordava un po al come disegnite anche i tuoi personaggi i tuoi character forse non è è un po esattamente uguale però secondo me è simile e ti potrebbe piacere un po lo stile flat si si è un po stile flat si chiama boh non so come cazzo si chiama io faccio quella roba e basta infatti io sono quella con la motion designer o quel professionista che è meno tecnico possibile però le cose le so fare ragazzi cioè le so fare le cose le so fare cosa è su cos'è questo video motion design si parla di motion design motion graphics motion graphics penso sia una campagna pubblicitaria della baianas a baianas quindi c'è anche una storia dietro ciabattini molto interessante brasiliani tra l'altro brasiliani e quindi è orientata penso per gente come te come me come brasiliani che non che gli piace sempre andare in giro piedi scalzi senza scarpe ho le scarpe oggi però oggi sì finalmente il gas si ha smesso di mettere quei sandali orribili e no è che fa freddo è che fa freddo siamo ottobre fa freddo ok andiamo col primo video ti faccio vedere questo qua in teoria non l'ho visto in teoria non l'hai visto f1 ma da facca ok anche perché c'è il calcio forse per questo che ho pensato a te calcio ciabatte e brasile cioè non so come altro potrei definire stoppa un attimo tra l'altro la cosa più sbagliata si possa fare giocare a calcio con le ciabatte perché soprattutto con le havaianas perché si spaccano forse così che diventano bravi calciatori brasiliani togliendo le havaianas perché le havaianas una cosa che non c'è stata in questa animazione che ho visto fino adesso è che non hanno fatto le porta con le havaianas noi facevamo le porta per strada con le havaianas ah sì? sì 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 con i sassi havaianas al posto che giocare con le havaianas usavamo come porte vabbè gli animatori secondo me non erano di strada non la conoscono sta storia cosa ne pensi della musica? ti ricorda casa? mi ricordo sì è molto animata diciamo molto vivace mi piace i personaggi sono molto carini aspetta aspetta chi è lo studio che ha fatto questa animazione? Colossal allora stiamo a parlare del cliente Baianas ok beh sì agenzia Allmap BBDO ok ho inizio pubblicitario non lo conosco ok production the youth e poi per i BFX c'è Colossal Colossal Diogo Gammeiro sono tutti brasiliani sembra che sono tutti brasiliani potrebbero essere anche spagnoli non lo so però sì è vero è vero allora il Sud America questa cosa non so se la sanno tutti ma il Sud America è molto attivo nell'ambito creativo sì di brutto penso che tra Brasilia e Argentina si fanno tante cose di pubblicità c'è Argentina mi ricordo c'erano delle facoltà di pubblicità che tanti 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 peruviani ci volevano proprio andare i premi di non mi ricordo come si chiama il premio forse leoni di qualche cosa sì cane non mi ricordo però era tipo i premi per la pubblicità che li vincevano sempre gli argentini e tutti volevamo andare a studiarli poi vabbè sono forti gli argentini sono forti hanno il talento sì tra l'altro siamo anche in compagnia di Rex e Wally carina quella parte lì con il maggiolino le puoi bagnare che poi ti trascinano con il maggiolino al mare in casa puoi starci sopra e galleggiare sull'acqua le Havaianas servono a tutto design for life design for life allora racconto un aneddoto sulle Havaianas mi gratto la pancia dai un aneddoto sulle Havaianas le Havaianas erano considerate per i poveracci no? erano considerate cioè gli indumenti dei poveracci ma in effetti costano poco cioè 15 euro ma che cazzo dici che costano molto di più? adesso? ma sì c'è il negozio in corso Buenos Aires ragazzi non costa 15 euro sono 15 euro vabbè comunque costavano costavano che ne so 10 reais capito? io le usavo non erano considerate delle ciabatte di lusso come adesso di lusso? secondo te sono considerate di lusso? eh sì è un brand internazionale adesso Havaianas mentre prima no prima era una roba così cheap 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 una roba da favela una roba poco costosa invece adesso è considerata una roba come quasi le Birkenstock c'è stato il periodo delle Havaianas che erano considerate fighe mi piacciono tanto i personaggi di quel di questo video infatti ti ho detto che ricordano un po' i personaggini che fanno quelli antimatter ma ricordano anche un po' quelli che fai te eh sì 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 ma cos'è che dicevi che sono ispirati alla musica no? rappresentano la musica hai detto? ogni personaggio in questo in questo film in questo corto in questo video fa parte di un universo di referenza di references ogni personaggio ho detto? ogni personaggio cazzarola un modo di umanizzare la musica l'arte personalità famose elementi della brasilianità elementi della brasilianità esatto interessante interessante con delle attitudini e umore nelle situazioni in cui i brasiliani si possono identificare no io non mi identifico con nessuno io secondo me sì perché già il calcio eh sì ma i personaggi no i personaggi non mi dice non mi dice un cazzo non mi dice niente infatti manca qualche personaggio afro no no sarebbero quelli penso quelli un po' più rossi questi qua no quello lì uno uno lo vedo poco poco più afro ma mancano gli afro manca la bocca grande manca le labbra giganti le labbra giganti la donna che stereotipi gli uomini afro che c'hai frate ma è così hanno la bocca più grande momento no vediamo vediamo il secondo la seconda reference che mi dicevi era una roba un po' più diversa no cioè è un po' un mix di musica e video mi avevi detto esatto 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 infatti è un video che nasce dall'audio è un video che nasce dall'audio spiegami un po' prima cioè com'è che funziona il pezzo si chiama rotator rotator è una parola palindromica palindroma non lo so palindromica che in pratica vuol dire che si legge uguale da una parte e dall'altra cioè se la leggi davanti dietro da sinistra a destra è uguale che da destra a sinistra sopra sotto sopra sotto sopra sopra vedo che hai capito il concetto ok in questo senso tipo come avevi detto come tenet si si tenet rota arepo si legge tutto al contrario si legge è una parindromica questo ha proprio quel concetto lì dell'essere palindromico che inizia e finisce come è iniziato cioè è tutto un un loop diciamo ok potrebbe essere considerato un loop ok te lo faccio vedere quindi tu mi hai detto che è tutto queste sono onde audio sono onde audio sono tutte onde audio ok infatti il tipo cosa ha fatto ha usato una tool una cosa su Udini l'avrà programmato Udini si può programmare? non penso perché penso sia tipo un plugin una funzionalità di Udini audiographic equalizer una roba del genere audiographic equalizer quindi tutte queste particelle queste cose lui le ha create prima in after effect e poi le ha importate su Udini dove le ha animate così seguendo un patrone che è quello dell'audio infatti come vedi tipo sono proprio onde audio queste qua che si muovono si sembra un culo con la diarrea una scorretta pesante è vero presta attenzione ai simboli che sono comunque tutti non so se è un ponto o una cosa che lui ha disegnato ma non sono tipo strisci e cazzermati a caso si sono forme geometriche forme geometriche linee interessante comunque cioè l'animazione è associata all'audio cioè sono le onde sonore praticamente è l'audio che genera poi l'animazione penso che poi ovviamente lui l'ha montato su Premiere cioè se volete sapere i software sono stati Udini after Premiere after Premiere però è una figata però c'è tanta tanta ricerca dietro cioè lui ha messo un botto per arrivare a questo prodotto qua visivo innanzitutto non l'abbiamo neanche menzionato pensate che testo di cazzo che siamo si chi è questo ah si Simon è vero nostro amico si 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 andavamo a scuola insieme grande Simon ma una domanda i simboli che cioè che compaiono lì sotto che tipo di simboli sono tu lo sai adesso andremo a vederli ma penso siano cose state disegnate da lui una roba creata da lui sembra una roba giapponese coreana sembra infatti a me sembrava coreano sai si sembrava coreano ma penso che non c'entri un cazzo col coreano dici dici la mia ignoranza dei simboli inventati o dei simboli musicali stilizzati questo è il titolo rotator rotator eh si che figata quindi è come se fosse un loop praticamente ma non so se è giusta la parola loop perché il loop si ripete ma non è che finisce come inizia in realtà lì finisce come inizia eh ma il loop non finisce come inizia si si inizia come finisce cioè lui ha un inizio e ha una fine ma ripete quindi è il loop è uguale alla fine non lo so no no è giusto è giusto finisce come inizia e inizia come finisce vi promettiamo che non ci siamo drogati no infatti siamo solo stanchi lo promettiamo other mind other mind v1 regular cioè ha proprio creato un font praticamente esatto che figo cioè lui ha proprio creato un font secondo te perché scorrevano in quel modo lì tipo il font cioè quel modo lì si è come se cioè è come se sottoscorrevano se poi vai a vedere no sottoscorrevano le lettere come se volesse dire qualcosa secondo me ah c'è una storia dietro nel senso quando crei un prodotto odovisivo anche se vuoi creare un visual figo se non c'è una storia dietro il visual rimane semplicemente quello un visual figo la creatività nasce soprattutto da una storia e qua in questo caso c'è la storia quale sarebbe almeno quello che percepito io poi non so se è veramente così questo video essendo l'inizio a livello della fine parla proprio della vita nel senso cioè è ciclica si si inizia e finisce e poi riparte poi riparte e che ne sai riparte non con me ma con qualcun altro quando uno muore qualcun altro nasce eh o magari la reincarnazione poi anche quel suono non è a caso il suono di monaci sta roba qua quel si si la campana tibetana che quando suonano io l'ho provata una volta quella che ti mettono in testa troppo forte troppo forte dicono che è la stessa vibrazione dell'universo si vabbè si ti vendono una storia assurda infatti anche lì c'è la storia però vabbè ci sta nel senso è una roba da provare tanto se vai nella fiera dell'oriente vanno a milano ogni anno due volte all'anno ci sono questi stand due volte all'anno ci fanno provare questa roba qua si si festival dell'oriente non fiera dell'oriente ormai non so se la fanno più però lo facevano due volte all'anno quindi lui lui ha messo lì l'utilizzo dei software esatto tu sei un visual effects artist hai usato audini audini no spero l'imparerò quando semestre davvero inizieremo a fare introduzione audini però non faremo scripting perché purtroppo non ce lo insegnano perché non ci insegnate un po' di codici non di bfk che cos'è che cos'è python su audini python di solito ti insegnano però c'è anche vex che è uno vex e bobs native di audini usare qualsiasi linguaggio di programmazione in realtà c'è chi usa c++ chi usa python perché è quella più famosa più easy da imparare poi c'è vex che da quello che so è quel linguaggio di programmazione nativa di audini e quindi vabbè audini è un sogno per me lo farò sicuramente non è detto che non vado altrove a studiare sta cosa chris vuole andare all'estero se ne vuole andare te ne vuoi andare chris si me ne vado no non abbandonare non abbandonarci chris non abbandonarci quindi hai usato audini e poi hai usato vabbè secondo me hai usato after e poi cos'è che cos'altro ha usato vabbè premiere per mettere tutto insieme premio per montarlo e basta okidoki passiamo a un altro visual io lo conosco da tantissimo tempo quando me l'hai nominato il video però non l'avevo visto lo conosco da tanto tempo dal forse 2017 che sentivo parlare di lui l'ho sentito in un podcast questo podcast parlava di Ariel Costa che si chiama Ariel Costa si faceva chiamare Ariel Ariel Costa adesso si fa chiamare Blink My Brain Blink My Brain ora voglio vedere voglio vedere questo video qui perché non l'ho ancora visto è una pubblicità quindi racconta la storia di un brand e poi anche qua c'è la storia se prestate attenzione non ci sono soltanto i visual ma c'è anche la storia dietro che regge il visual riprende anche un po' la storia la storia del brand e tutto poi parleremo un po' anche della difficoltà di animare ha uno stile particolare lui esatto ha uno stile particolare infatti questo secondo me è quello che attirerà l'attenzione si 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 let's go bello ciao eh si intanto sentiamo anche la descrizione del video si dobbiamo di string sono le corde sono le corde per le chitarre no? ma immagino immagino sono le più fighe queste corde qua immagino non essendo un chitarrista neanch'io penso penso che siano molto famose non lo so non ho idea però già da come racconta la storia di questa di questo brand devo dire che ma è interessante sai perché utilizza un po' l'illustrazione utilizza tanto il design per creare riprende questi elementi che trova online google immagini braccia gambe vestiti collage una roba del genere si si fa una specie di collage e poi unisce tutto in un'animazione molto molto figa ma anche non solo il character però guarda le scale sono comunque sono vere cioè secondo me una fotografia si si sono vere fotografie il mix il mix che c'è tra la fotografia le immagini prese diventa una roba unica perché poi lui prende tutti questi elementi li mette insieme e lui diventa un personaggio a me è suscita subito il ricordo di quello che si faceva quando erano bambini di tagliare il giornale di tagliare il giornale di farti queste cose qua i tuoi dream board non lo so ti ho mai fatto fare un dream board dream board no tipo visualizzare quello che piacerebbe nella vita o tipo nella musica cosa ti piace e quindi attaccavi che ne so tagliavi ah beh si 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 o magari vuoi andare che ne so di viaggio di là allora ti fai le foto dei posti che vuoi visitare e li metti così vision board si chiamano eh vedi vedi tutti i ritagli non riesco a capire prenda da online quali li ricrea esatto è un bel mix tra l'altro se pensi solo al fatto che deve poi scontornare tutto cioè è una follia capito cioè deve stare lì a scontornare tutto a tagliare tutto poi a mettere tutto insieme è quasi più difficile che disegnare io immagino che forse cioè a me a me sembrano proprio tipo degli scan di fotografia neanche tipo una foto normale perché sembra proprio carta cioè se si vedi sembra proprio stampa più che un digitale non lo so non lo so c'è qualche video suo online come lo fa mentre spiega si 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 è un tutorial si si ci sono lui prende proprio da internet le immagini e poi le mette insieme ah ah mi sembra adesso non mi ricordo se lavorava per Buck lavorava per Buck si potrebbe essere direttore creativo potrebbe essere direttore creativo dopo lì è diventato freelance per per fare i suoi lavori personali come Enrique Barone Enrique Barone è un altro animatore vabbè tu non lo conosci però lavorava per una grossa agenzia che dopo è uscito dall'agenzia per fare freelance no molto interessante molto figo io apprezzo molto lui come dicevamo prima gli artisti del Sud America gli artisti della creatività per la pubblicità i visual designer del Sud America sono molto interessanti lui è uno di quelli che ha unito un po' diversi stili diverse robe potremmo dire che è uno di quelli che è riuscito a uscire con il suo stile di motion ma alla fine questo è motion sì sì è motion design però guarda a me sembra proprio dei ritagli proprio di rivista è proprio figo sì vedi mischia un po' tutto mi direi che anche lui ha fatto un NFT penso di sì ma ormai tutti li stanno facendo un NFT allora Chris questo è stato un bel video è interessante un po' video un po' molto informale Chris è strano che facciamo i video informali ma quando mai siamo stati informali qua mai sì 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 no è abbastanza figo se vi piace questo formato fatecelo sapere noi saremo qui sempre a guardare reference a fare robe creative a prendere ispirazione a portare ispirazione io vi ricordo che ogni giovedì alle 19 facciamo il nostro podcast sulla creatività e il gasi podcast dove è vero Chris portiamo un sacco di personaggi di intervistati di personaggi di professionisti del settore della creatività che raccontano la loro storia ma soprattutto come prendono ispirazione che strumenti usano e in che modo si mantengono creative e quali sono i loro segreti da svelare ogni giovedì alle 19 siamo con il nostro podcast poi ogni settimana escono video come questi ispirazione 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 o cazzeggio semplicemente detta così ma sono un po' la stessa cosa dal cazzeggio può nascere un'idea bellissima dal cazzeggio nasce effettivamente la creatività questo è non hai un cazzò da fare crei qualcosa con questo consiglio con questo consiglio chiudiamo questo video io vi saluto bella raga e anche Chris ciao ragazzi ciao Chris ci vediamo alla prossima ci vediamo alla prossima